Cyberpunk ha mostrato più di un problema al lancio, e CD Projekt ha promesso grosse migliorie nelle prossime patch, basate sulle critiche ricevute dalla community. Nonostante vari grattacapi e ritardi, ora sembra che la patch 1.2 stia per arrivare, e attraverso un curioso comunicato strutturato a modi news televisiva, il team ha descritto alcune delle novità. Vediamole! La prima è legata agli interventi della polizia. Il teletrasporto delle forze dell'ordine era un problema abbastanza assurdo, che portava la loro comparsa anche in luoghi abbastanza astrusi e dava al via immediatamente degli scontri a fuoco nella maggior parte delle situazioni. Ora le cose sono state mitigate e queste ci mettono qualche secondo in più a comparire, oltre a venire posizionati ad una distanza più umana e a partire sempre con la comparsa di un drone. Non è però chiaro se siano in grado di inseguire il protagonista o lo perdono ancora immediatamente di vista dopo poche decine di metri percorse. Gli altri miglioramenti riguardano il sistema di guida. Vi saranno nuove opzioni per regolare la sensibilità dei comandi, per un'esperienza in generale più rifinita e piacevole sui vari veicoli. Nel gioco è stato inserito anche un sistema chiamato rock'n'roll, pensato per disincagliare le auto incastrate da qualche parte senza bisogno di spostarsi e rievocarle dalla distanza. L'altra aggiunta? La possibilità di eliminare la schivata dai direzionali, che creava problemi ad alcuni giocatori desiderosi di utilizzarla con altri tasti, provocando movimenti inconsulti durante le partite. Ed è tutto qui, per ora. Senza dubbio nulla di particolarmente significativo, ma almeno sono piccoli passi verso un miglioramento generale. Comunicazioni più cristalline sono indubbiamente gradite, ma si spera in un update più sostanzioso di questo per il futuro. Enormemente più sostanzioso. E voi? Contenti delle novità o ormai diffidenti e privi di speranza per il futuro del gioco? Fatecelo sapere nei commenti e non scordate di iscrivervi al canale di Multiplayer.it. Alla prossima!